Poker di Reti nell'ultima amichevole per il campionato. A Cascia scorrono i titoli di coda per il ritiro della Taranto contro il Foligno. Squadra di promozione finisce 4-0. Galoppo utile per assimilare gli schemi e integrare i nuovi. Gara poco indicativa, infatti troppa la differenza tecnica tra le due formazioni. Capuano non rischia 5 calciatori convalescenti, Antonini, Romano, Calvano, Condai e Cianci. Il tecnico torna al classico 3-5-2, si rivede Ferrara sulla corsia a Mancina, mentre davanti ci sono Samele e Bifulco, quest'ultimo in evidenza autore di una tripletta. Per la cronaca il risultato si sblocca dopo 15 minuti, Mastro Monaco inventa l'assist per la conclusione al volo di piattone di Bifulco. Il raddoppio giunge 3 minuti, più tardi fa tutto Samele che sfrutta un traversone dalla destra. Il pallone colpito di testa sbatte sulla traversa ma sul tabellino ci finisce Papaserio. Il terzo e quarto gol vengono segnati da Bifulco, vero mattatore, che tra l'altro aveva realizzato anche il gol del successo contro l'Alba Longa nell'amichevole di domenica scorsa. Il terzo gol giunge al 39esimo e poi la firma sul poker al minuto numero 42. Nella ripresa la girandola delle sostituzioni, il risultato non cambia ma comunque è un buon galoppo. La squadra lascerà il ritiro domenica 13 agosto per rivedersi poi il Iacovone, mercoledì 16 agosto. La squadra lascerà il ritiro domenica 13 agosto.